buongiorno ragazzi i fortuni di sono infortuni eh provenienti da un over utilizzo in due ruoli dove si spende molto non solo a livello fisico ma anche a livello mentale soprattutto il play il play deve essere sempre collegato non si può scollegare un attimo perché sennò casca tutto casca tutta l'organizzazione della squadra quello è un ruolo che ti prosciuga sia a livello mentale e fisico a Slani a livello fisico è molto più strutturato è molto più cattivo e a mio avviso a mio avviso ha dimostrato di poterci stare deve migliorare al lato difensivo sicuramente in un centrocampo eh a due ovvero sia quattro con i due esterni quindi magari con un cagnaccio accanto lui renderebbe molto di più in questo centrocampo deve fare la doppia fase e non si può mai scollegare non è semplice comunque un ragazzo di vent'anni ma io vedo dei miglioramenti nel slime io vedo dei miglioramenti notevoli in questo ragazzo soprattutto a livello fisico si è irrobustito è più cattivo non è facile sostituire Cialanoglu Cialanoglu Brozovic con Brozovic acquisisci determinate cose con Cialanoglu altre con Cialanoglu giri la palla più veloce dai meno punti di riferimento con Brozovic ne acquisisci in fase di interdizione degli inserimenti è meglio Ciala è meglio Brozovic a a me sarebbe piaciuto per tutti e due quest'anno di cosa stai ragionando tutti e due dovevano stare qua meno si si intercambiavano eh purtroppo siamo siamo sempre lì qui si parla di rifidanziamento ma quale rifidanziamento bisogna strutturarsi bisogna andare avanti perché gli altri non stanno non stanno fermi Atalanta e Genova le 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 prossime due partite occhio ai nostri braccetti ragazzi perché comunque soprattutto l'Atalanta attaccanti veloci e mezzali altrettanto veloci e sono molto brave nell'inserimento uno di questi è Ederson tanto per farti un esempio e devono giocare i titolari deve giocare Pavarda deve giocare Danfis deve giocare bastoni perché te lo ripeto io su Bissec apprezzo le falcate che quando parte a un metro e novantacinque è un treno in colza non lo fermi ma in fase difensiva a me continua a non convincere per nulla questo ragazzo vedi anche l'ultima l'ultima partita hanno detto eh ma è colpa di Danfis ma ragazzi ma quando l'esterno va avanti è normale che dietro lascia i buchi il difensore deve sapere difendere ma di cosa ragioni ma di cosa stai ragionando Bissec può giocare solo con Darmian in certe partite secondo me che gli copre le spalle a trecento e santa gradi altrimenti dal lato difensivo io è un giocatore che sicuramente è di un buon prospetto ma è ad oggi non puoi contare su Bissec in certe partite non non scherziamo ragazzi dietro devi saper coprire quando l'esterno va avanti quindi non essendoci Cialanoglu poi lo stesso Mkhitaryan che anche lui si vede che è stanco ragazzo di trentacinque anni deve giocare per forza è fondamentale senza Cialanoglu perché perché è l'unico a centrocampo che ti fa la doppia fase come secondo me l'unico a centrocampo insieme a Cialanoglu che riesce a farti una doppia fase perfetta è Frattesi è un mio pupillo Frattesi la l'alzassuolo Frattesi è un giocatore fenomenale Frattesi è un giocatore fenomenale che sarebbe titolare in qualsiasi squadra lui purtroppo a Barella davanti non è facile togliergli il posto possono giocare insieme secondo me no almeno tu non sposti Barella a sinistra ma Barella a sinistra è stato spostato anche il nazionale da Mancini con scarsi risultati perché se vi ricordate in semifinale in quel ruolo viene sostituito Barella al sessantesimo al posto di Pezzina quindi anche lì non è semplice farli coesistere capito farli convivere questi due giocatori rimango dell'idea che Frattesi è un giocatore clamoroso clamoroso quindi c'è la Noglu secondo me con l'Atalanta scusami Mkhitaryan l'Atalanta deve giocare per forza titolare Sanchez Sanchez ha giocato bene è vero ma perché ha giocato bene anche perché ha giocato bene grazie all'utilizzo di Frattesi perché si sono compensati i due giocatori nell'ultima partita di cosa stai ragionando le guardi le partite o guardi solo la palla e la entra dentro ragionaci sopra queste cose perché uno faceva gli strappi l'altro tornava indietro e nascondeva la palla capito si scambiamolo continuamente quindi Frattesi ha permesso a Sanchez di fare una bella partita te mi dirai ma si gioava contro il Lecce una squadretta non è vero che certi movimenti non sono facili nemmeno contro queste squadre qui capito quindi che poi dopo i movimenti di Frattesi permettevano a Sanchez di venire indietro i strappi di Frattesi di nascondere Sanchez veniva dietro Frattesi strappava e e Nigno Maraviglia nascondeva la palla per quell'autonomia è a non è i Sanchez di cinque sei anni fa questo lo sappiamo tutti venerdì parleremo di rifidanzamento dell'eventuale rifidanzamento che per noi non ha senso non accadrà anzi per me rifidanzamento non ha senso non accadrà comunque poi dopo vedremo anche perché non ha nessun interesse a fare un rifidanzamento con Zang comunque poi vediamo come va a finire poi commenteremo noi siamo sempre qui venerdì sera non mancate perché è giusto secondo me fare chiarezza indipendentemente da dalle voglioline o dai pareri di ognuno di noi ci becchiamo più tardi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti